eccoci qua pasquale puntata della linea osservatorio anche quest'oggi lunedì parliamo di un'azienda che all'interno del nostro osservatorio ha spiegata semplice sono contento sono particolarmente contento di parlare con johnny sì perché mi piace e li abbiamo ascoltati abbiamo avuto il piacere di ospitarli all'interno della ii week quindi oggi è un bel ritorno fa piacere che anche loro sono all'interno del nostro osservatorio perché fanno delle cose veramente fighissime allora presentiamolo subito johnny malacarne ceo e founder giusto johnny sì giusto ciao giacinto ciao pasquale grazie dell'invito un piacere un onore essere qua con voi oggi che bello i maghi del podcast dell'intelligenza artificiale spiegata semplice arrivati a cento e non so quante puntate 112 113 si contano più tra l'altro anche tu johnny sei autore di un tuo podcast quindi se siete curiosi andate a cercarlo si chiama il tuo podcast intelligenza artificiale per l'impresa per l'impresa focalizzato per manager imprenditori che vogliono acquisire qualche informazione in più su come introdurre l'intelligenza artificiale all'interno del proprio business bene ma si si sente che johnny c'è a voce proprio da radio da radio radio 105 allora johnny veniamo a noi perché insomma questo osservatorio è l'insieme delle aziende che producono algoritmi soluzioni di intelligenza artificiale su cui pasquale io abbiamo posto la nostra attenzione il nostro il nostro sguardo e oggi vogliamo parlare con chi segue il nostro podcast delle vostre soluzioni perché possano essere per te che ci ascolti di ispirazione per il tuo prossimo progetto di innovazione che stai pensando di realizzare all'interno della tua azienda ecco bluetensor è una di quelle aziende di cui ci fidiamo no pasquale insomma vogliamo darvi come dire una pacca sulla spalla per dirvi dai che loro sono in grado ce la puoi fare e beh esatto esatto è il motivo principale della 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 nostra come dire creazione no di questo osservatorio di intelligenza artificiale spiegata semplice all'interno del quale trovi le aziende che oggi fanno in italia in maniera eccellente selezionate da noi intelligenza artificiale in tantissimi ambiti e poi oggi appunto abbiamo l'opportunità di parlare con uno di questi come johnny come bluetensor che ci racconterà un po come può aiutarvi ok quali sono le loro soluzioni e allora vi anticipo che parleremo di tre grandi argomenti il primo è soluzioni di computer vision nello specifico entreremo nei dettagli di una soluzione che insieme all'università di trento state realizzata per utilizzare gli ecografi per trovare il covid all'interno del nostro corpo ma non soltanto pasquale parleremo anche di natural language processing un algoritmo proprietario di natural language processing creato appositamente da bluetensor utilizzato in tantissime attività tra le altre anche dall'organizzazione mondiale della sanità e poi parleremo anche di manutenzione predittiva da dove vogliamo partire johnny ah ditemi voi partiamo con una brevissima introduzione di bluetensor raccontaci un po chi siete dai velocissimamente noi siamo un'azienda focalizzata nello sviluppo di soluzioni personalizzate di intelligenza artificiale siamo relativamente giovani non siamo sul mercato da tanti anni anche se come soggi fondatori lavoriamo in questo settore già da parecchio tempo io personalmente ho iniziato agli inizi degli anni 2000 ad occuparmi di machine learning per applicazioni in ambito tele rilevamento o remote sensing all'epoca i progetti di ricerca erano in questo settore erano commissionati da grandi grandi aziende e perché insomma come sappiamo bene costavano sia l'hardware costava molto non era facile reperire i dati e quindi l'ambito era quello della ricerca e oggi invece già da qualche anno insomma questi argomenti sono passati sono stati trasferiti al mondo dell'industria per cui siamo partiti con questa iniziativa la nostra sede è a trento siamo una decina di persone di collaboratori e in più un network di specialisti diciamo con i quali collaboriamo da giro per il mondo dopo vi racconteremo appunto quello che facciamo un po più nel nel dettaglio rispetto ad altre aziende credo i nostri punti di forza siano almeno tre primis non abbiamo soluzioni preconfezionate ma siamo focalizzati sui bisogni dell'utente quindi studiamo assieme di volta in volta qual è la soluzione che dà maggiori risultati per il cliente finale secondo dal punto di vista tecnologico credo siamo una delle poche aziende in italia ad avere padronanza e ad aver realizzato casi d'uso concreti nell'ambito delle tre tecnologie che hai anticipato prima quindi computer vision vision natural language processing e analisi predittiva e terzo abbiamo un sistema di lavoro che ormai è collaudato e permette di introdurre piano piano queste tecnologie all'interno delle aziende rispettando i tempi tecnici di adozione che ricordiamo variano da organizzazione a organizzazione pertanto ci vuole un approccio delicato anche a volte per per non dare false aspettative e lavorare per fare in modo che l'investimento economico porti il massimo valore per l'azienda ecco questo è un riassunto molto interessante voi siete a trento in provincia di trento insomma e quindi avete anche delle belle collaborazioni con il mondo universitario proprio da qui partirei johnny cercando di capire come una tecnica appunto dell'intelligenza artificiale come quella della computer vision è stata applicata da voi nell'ambito della della lotta al covid 19 e nello specifico per applicata agli ecografi puoi raccontarci brevemente cosa avete realizzato sì più che volentieri noi abbiamo realizzato e abbiamo ingegnerizzato un un protocollo per diagnosi e monitoraggio della polmonite da covid 19 un protocollo che è stato studiato dal laboratorio all'interno dell'università di trento c'è un laboratorio specializzato nell'analisi di dati ultrasonografici delle ecografie nel caso specifico ecografie polmonari stiamo parlando quindi stiamo parlando di un di un sistema che analizza in automatico le ecografie dei polmoni e in automatico da un un ranking ovvero un valore sulla diciamo lo stato di salute del polmone relativamente alla alla polmonite da covid 19 e questo sistema permette di non di fare una diagnosi diciamo come il il tampone molecolare non stiamo parlando di diagnosi è un sistema molto utile sta attualmente lo stanno utilizzando in tante cliniche in giro per il mondo è un sistema che abbiamo realizzato a maggio su su risposta di una richiesta che ci è arrivata direttamente dall'università università ha sviluppato il protocollo scientifico diciamo e dopodiché aveva bisogno di una società che la supportasse nello sviluppo degli algoritmi e quindi e che aggiungesse anche un algoritmo di intelligenza artificiale per migliorare diciamo così il risultato per cui abbiamo fatto questa bella collaborazione con l'università dove l'università ha messo la parte più scientifica data dagli algoritmi noi abbiamo messo più la parte ingegneristica per rendere il prodotto fruibile al grande al grande pubblico diciamo nel caso specifico sono ospedali e cliniche private in giro per il mondo dove sostanzialmente il l'operatore effettua la l'ecografia l'ecografia viene in automatico analizzata dall'intelligenza artificiale e che dà una risposta un output l'output è un numero che va da 0 a 4 sullo con un con un grado di criticità diverso ovviamente ed ha anche un'immagine con la segmentazione per cui ho l'immagine della mia il mio che è un video di fatto perché l'ecografia è un video un piccolo filmato dove è messo in evidenza l'area del polmone che è che è malata insomma questo esattamente questo è uno strumento molto utile per valutare l'andamento della malattia perché sappiamo che i primi sintomi purtroppo questa questa malattia è una malattia molto critica perché i primi sintomi non il paziente non li percepisce e quindi solo attraverso un'indagine strumentale riusciamo si riesce a vedere ahimè com'è lo stato di salute del polmone una delle indagini che si può fare è l'ecografia questa è una tecnica innovativa perché fino a pochi anni fa non non si faceva per i per si utilizzava la radiografia o la tac quindi altre altri tipi di immagini diagnostiche e quindi tramite l'ecografia si può valutare lo stato di salute del polmone questo è molto importante perché si riesce a valutare anche nella fase negli stadi iniziali della malattia come sta evolvendo per cui si riesce a capire se è il caso di ricoverare subito la persona ad esempio che sappiamo che questa malattia uno degli aspetti più importanti è prenderla subito all'inizio prenderla in tempo esattamente riesci a farci degli esempi di come questa tecnologia può essere utilizzata magari in maniera trasversale su altre categorie merceologiche abbiamo visto benissimo nel mondo sanitario ci fai degli esempi su progetti all'interno del quali vi hanno già coinvolti o potenzialmente realizzabili sì volentieri noi lavoriamo sia con clienti finali quindi con utilizzatori di applicativi specifici sia con dei sistemi integrator anche con altre aziende che fanno intelligenza artificiale che che noi supportiamo per fornire loro in questo caso gli algoritmi gli esempi più classici sono tutti gli ambiti dove si tratta di andare a riconoscere degli oggetti sia fissi che in movimento quindi stiamo parlando di analisi dei difetti per rimanere nel mondo dell'industria analisi sicurezza urbana ad esempio abbiamo fatto un progetto molto interessante dove andiamo a identificare dei comportamenti delle persone dei comportamenti critici ad esempio se una persona sta cadendo dalle scale o se ci sono dei 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 sospetti delle delle situazioni sospette di criminalità ad esempio è un altro un altro aspetto un altro ambito analisi della qualità del del cibo diciamo dove andiamo ad applicare degli algoritmi proprio di intelligenza artificiale che permettono di riconoscere il difetto ad esempio della frutta e riconoscerlo in maniera tale proprio da classificarlo questo difetto e quindi dare da classificarlo su un insieme di possibili tanti difetti quindi non stiamo parlando di un sistema come c'era una volta di visione e come tuttora c'è in molti ambiti industriali sistemi di visione tra virgolette non intelligenti che sono in grado di discriminare alcuni difetti ma intanto non riescono a discriminare tanti difetti e poi non riescono a dare una misura al difetto cioè quanto difettato è quanto grosso è il difetto sostanzialmente quindi riescono soltanto escluderlo eventualmente esattamente ok ok beh questo è molto importante infatti si è molto interessante ricordo qualche esempio che ci hai fatto anche durante l'IA week rimasti particolarmente colpito da questa vostra come dire caratteristica no di una precisione incredibile vero si è diciamo non è la nostra la precisione dell'intelligenza artificiale nel senso nel senso più dati abbiamo di qualità voi lo sapete bene si riesce a spingerci molto molto in là poi si va a lavorare nel caso dell'analisi dei difetti con i falsi positivi quindi si va ad aumentare i falsi positivi e situazioni di questo tipo bene bene restiamo un attimo nell'argomento salute sanità ci parlavi anche di una bella esperienza che avete con l'organizzazione mondiale della sanità giusto sì è corretto sempre durante il periodo del lockdown abbiamo ci siamo aggiudicati in una gara d'appalto per in dieta da OMS e in questo caso la gara il progetto prevede la realizzazione di un resonant system il resonant system è un po se vogliamo l'evoluzione del machine learning quindi un sistema che può raccogliere diversi tipi di dati testi immagini voci e impara stiamo parlando di sistemi che funzionano in due step un step di training dove nel caso specifico il sistema va a acquisire una conoscenza di base di fatto diventando un esperto che ha conoscenza nell'ambito poi adesso vedremo qual è l'ambito dell'OMS e poi una volta addestrato il sistema serve a dare suggerimenti all'utente finale con una fidabilità pari a un esperto di settore questo questo funziona il principio di funzionamento di un resonant system di un sistema di supporto alle decisioni sarebbe come una sorta di un assistente virtuale molto molto esperto insomma e nel caso specifico il sistema che abbiamo realizzato attualmente è in versione beta significa che lo stanno utilizzando gli esperti per lo stanno alimentando quindi con mettendo conoscenza nel sistema quindi un utilizzo a porte chiuse è una piattaforma che sarà la piattaforma di riferimento a livello mondiale per per i disabili che i disabili utilizzeranno per trovare il l'ausilio migliore per per se stessi in base alle alle proprie disabilità questo è un è un tema molto molto interessante molto importante perché al mondo purtroppo ci sono tanti disabili e parlando proprio in tutto il mondo c'è anche difficoltà di avere accesso al a qual è l'ausilio giusto per per la persona e ci sono paesi molto meno fortunati del nostro ma anche in Italia non è tutte queste informazioni non sono facilmente accessibili questa piattaforma servirà ad aiutare disabili quindi avrà una sorta di user interface anche sviluppata con determinate caratteristiche e aiuterà proprio i disabili nella scelta dell'ausilio migliore quindi come se il disabile si trovasse di fronte a un centro specializzato il disabile racconta la sua disabilità quindi anche con un linguaggio naturale naturale esattamente e il sistema gli propone gli ausili più più adatti alle esigenze questo è davvero un ottimo ambito di applicazione della tecnologia abbiamo raccontato tanti esempi e più nell'ambito del business no difficilmente nel terzo servizio nel terzo servizio come nel terzo settore come si dice solitamente quali sono altre applicazioni che voi in bluetensor vedete di questa vostra tecnologia che ricordiamo essere una tecnologia proprietaria insomma sviluppata da voi lì a Trento in collaborazione con anche un'università mi dicevi? sì esattamente noi abbiamo cercato negli anni di coltivare delle collaborazioni importanti con dei centri di ricerca che per noi rappresentano dei modelli di riferimento all'interno del proprio ambito di ricerca per quanto riguarda la Natural Language Processing noi collaboriamo col Corp Institute of Technology in Irlanda e in particolare lì abbiamo una collaborazione con due professori abbastanza che hanno un'esperienza pluriannale e sono molto molto esperti nel creare questi motori di NLP molto efficienti efficaci in base e possono essere personalizzati anche in base al contesto dove poi vanno ad operare per cui noi di base abbiamo degli algoritmi nostri proprietari e poi riusciamo ad aggiungere dei pezzettini per migliorare le performance dell'ambito dove vanno ad operare ottimo mi pare insomma già in questi primi minuti di podcast Jacinto abbiamo dato già degli spunti super interessanti e a questo punto prima di andare avanti ricordo per chi magari non avesse cotto all'inizio l'opportunità con Johnny e Blue Tensor loro sono all'interno del nostro osservatorio quindi con loro abbiamo la possibilità avete la possibilità magari se siete interessati ora stiamo raccontando un po' le loro esperienze e le loro case history se siete interessati per non so anche una chiacchierata volete approfondire perché magari all'interno della vostra azienda avete captato l'esigenza e Blue Tensor può darvi una mano bene iaspiegatasemplice.it c'è la sezione dell'osservatorio lì potete candidarvi nella parte dedicata ai progetti e vi metteremo in contatto con Johnny sarà nostra assoluta premura insomma darvi una mano perché c'è tanto bel da fare infatti poi tra l'altro notavo Johnny nella chiacchierata che ci siamo fatti dietro le quinte che avete anche un modello di pricing delle vostre soluzioni abbastanza duttile nel senso che si va da soluzioni a licenze in base all'utilizzo poi a soluzioni a carone mensile a soluzioni a carone annuale a soluzioni una tanto insomma siete abbastanza duttili da questo punto di vista sì assolutamente abbiamo visto che questa duttilità dà risultato noi ci teniamo a dire che la nostra azienda è basata su dei valori che condividiamo sia internamente sia esternamente il valore principale per noi è il cliente per cui siamo focalizzati sui bisogni del cliente e questo lo manifestiamo anche attraverso una duttilità dal punto di vista del pricing bene ottimo questo è molto importante per chi magari come te che stai ascoltando in questo momento stai immaginando una soluzione di intelligenza artificiale chissà quanti milioni di euro pensi che possa valere no Pasquale questo è importante sempre sottolinearlo passiamo al terzo ambito che è anche molto interessante perché qui parliamo di previsioni e non le previsioni di Paolo Fox del 31 dicembre ma qui parliamo di previsioni un po' più accurate perché insomma tutte le aziende dispongono di dati informazioni del passato l'intelligenza artificiale si dice che è bravissima a prevedere il futuro guardando al passato è così? esattamente proprio così è un peccato vedere e entrare in contatto con aziende anche aziende importanti che stanno comunque crescendo e hanno magari un decennio di dati dormienti che sono lì e che servono solo per fare delle dashboard statiche per far vedere dei trend su come è andata fino ad oggi e quello è un peccato perché giustamente come dici te con l'intelligenza artificiale, con il machine learning riusciamo ad andare a processare una grossa quantità di dati quindi anche su uno spazio multidimensionale quindi non su un grafico tre dimensioni per farla semplice insomma come si riesce a vedere anche ad occhio nudo ma l'intelligenza artificiale può mangiarsi anche spazi di dimensioni 100, 200 per capirsi e grazie a questa capacità computazionale degli algoritmi è in grado di estrarre delle correlazioni che poi possono darmi delle previsioni e quindi mi proiettano non solo lo stato ad oggi quindi lo trend ad oggi ma mi dicono in base mi dicono, mi danno una previsione di come possono andare le cose e quindi io posso andare a fare delle scelte oggi e vedere in base alla scelta che faccio oggi cosa succederà domani viceversa l'intelligenza artificiale mi può dare delle indicazioni su qual è la scelta migliore da fare oggi per ottenere un risultato di un certo tipo domani Proviamo a fare un esercizio Gianni facciamo un po' un fuori programma proviamo ad immaginare perché di solito quando parliamo in questi termini si fa sempre riferimento a grandi quantità di dati proviamo a dare dei numeri quindi magari con dati minimi quanto può essere secondo te una base utile di dati per poter quindi fare un'analisi del genere e magari avvicinandoci anche a degli esempi di tipologie di dati abbastanza comuni all'interno delle PMI o comunque delle aziende che sappiamo essere il tessuto economico italiano così magari qualcuno che ci ascolta diciamo ok quindi io ce la posso fare Sì, ti ringrazio di questa domanda perché non è semplice la risposta nel senso dipende dall'ambito dalla frequenza di campionamento dei dati per fare un esempio uno degli ambiti dove l'analisi predittiva funziona bene è sull'andare a prevedere con una precisione molto alta i guasti di un macchinario ad esempio la famosa manutenzione predittiva quindi stiamo parlando di macchine automatiche ad esempio o di un componente di una macchina dove che va in esercizio che è magari un componente fondamentale di una linea di produzione immaginiamo un componente all'interno di una cartiera che se si ferma il processo stiamo parlando di decine di migliaia di euro di danno al minuto queste sono le cifre in alcuni ambiti dove anche noi operiamo lì è chiaro che andare a prevedere con una precisione millimetrica quando si guasterà il macchinario mi permette di pianificare in maniera adeguata le manutenzioni per ridurre al minimo il numero di interventi e quindi massimizzare ridurre i costi massimizzare i profitti chiaramente massimizzare i profitti bene questo è un grande esempio sottolineo insomma amici in ascolto imprenditori manager di aziende che avete in linea di produzione occhio perché questo è veramente interessante sicuramente fate delle manutenzioni ai vostri macchinari oggi si può quindi prevedere un guasto o comunque prevedere anche quelle che sono le attività di manutenzione anche per rendere più efficienti quindi io metto a calendario in base al al momento esatto in cui devo farla così so che poi la linea di produzione è sempre efficiente bene un po' più complicato sarebbe sugli scenari di business no? Johnny può essere utilizzata questa tecnologia dell'analisi predittiva per un'attività di gaming interno all'azienda quindi che so immaginare scenari di business e vedere come cambiano magari l'introduzione di un nuovo prodotto sul mercato come risponderà il concorrente il competitor o secondo te ci sono è molto condizionata questa tecnologia dal passato e quindi non ci sono poi tutti i fattori di rischio che possono venire fuori che so da un evento da un evento che può entrare nella nostra vita un po' come è successo per il covid insomma nessun algoritmo poteva prevedere una cosa del genere no? esattamente secondo me hai toccato ma giustamente voi siete degli specialisti hai ben capito che i fattori di rischio se ci sono dei fattori di rischio esterni che il mio modello non ha mai visto prima è una cosa nuova per cui per cui questa è una cosa che devi imparare pertanto il fattore rischio pandemia è un fattore rischio nel caso in cui si va a modellare un si va ad applicare questo sistema per modellare un business per fare una sorta di gaming come hai detto te ci sono dei fattori di rischio che possono influenzare ovviamente la scelta e sicuramente però mi viene da dire che l'utilizzo di un'intelligenza artificiale di sicuro porta comunque a considerare tutte le altre casistiche dove il fattore di rischio assolutamente dove magari quel fattore non è stato considerato in ogni caso in ogni caso mi dà un supporto validissimo me lo dà assolutamente beh è un alleato 100% dell'imprenditore o del manager insomma soprattutto per le aziende moderne noi lo diciamo sempre Pasquale il manager del futuro sarà rimpiazzato solo dal manager che userà l'intelligenza artificiale quindi insomma se sei un manager e non ti stai per farlo dovresti iniziare a farlo oggi per esempio abbiamo dato la dimostrazione agli amici che sono in ascolto di come l'intelligenza artificiale di Blue Tensor e Johnny ci ha raccontato ricordiamo Johnny Malacarne CEO e Founder di come può essere un grande alleato abbiamo fatto un banalissimo esempio prima quindi delle manutenzioni magari se sei un manager o comunque devi monitorare le linee di produzione della tua azienda ed è importante perché fermarsi anche per qualche minuto vuol dire soldini di fatturato che si bloccano occhio perché l'AI è un grande alleato per evitare questo o comunque tanti altri esempi noi un alleato ce l'abbiamo è Blue Tensor per realizzare il tuo progetto pertanto sappi che Johnny Malacarne e il suo team in Blue Tensor sono a disposizione per realizzare il tuo progetto e iniziare a pensare anche al tuo progetto di innovazione all'interno dell'azienda se non l'hai ancora fatto visita iaspiegatasemplice.it nella sezione osservatorio lì troverai un'area in cui potrai candidare il tuo progetto e noi ti metteremo in contatto direttamente con Johnny se hai voglia di fare una chiacchierata con lui Johnny sei stato gentilissimo come sempre noi ci vedremo molto tra pochissimo ancora sui nostri schermi nella AI Academy insomma tante cose in programma mi raccomando tienici aggiornati su tutte le novità che mettete sul terreno con le vostre aziende e clienti Pasquale mi sembra che sia andata molto bene questa linea osservatorio grande puntata linea osservatorio grazie Johnny grazie a voi grazie a voi è un piacere sempre parlare con voi ci vediamo presto grazie alla prossima puntata ciao 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 ciao